ariete saranno in molti a volervi aiutare a superare un momento particolarmente difficile grazie al loro aiuto ve lo lascerete facilmente alle spalle toro state attribuendo a qualcuno più meriti di quanti ne abbia realmente tra i due in effetti siete voi quelli più degni di lode gemelli è tempo di tornare insieme ad una persona che vi fa sentire più forti e migliori la sua lontananza non vi ha giovato cancro potreste dover affrontare una sfida davvero impegnativa oggi ma la supererete brillantemente se saprete mantenere la calma leone potreste dover modificare il vostro programma della giornata per occuparvi di un impegno inatteso in serata le questioni personali prenderanno la precedenza vergine subentrerete a qualcuno e rimedierete alla sua incapacità di svolgere certi compiti mettete bene in chiaro però che questa non deve diventare un'abitudine bilancia una persona a cui avete sempre dato il vostro sostegno potrebbe fare qualcosa che vi deluderà oggi non chiudetevi nel vostro risentimento esprimete ciò che provate scorpione tutti si improvviseranno psicologi oggi e vi sommergeranno di consigli non richiesti voi però siete determinati ad ascoltare solo il vostro cuore sagittario passerete buona parte della giornata con una persona che condivide il vostro entusiasmo per un certo progetto insieme sarete imbattibili capricorno siete abituati a fare certe cose da soli ma oggi dovrete riconoscere i vostri limiti e chiedere l'aiuto di qualcun altro acquario anche i compiti più facili e di routine potrebbero richiedere una maggiore attenzione rispetto al solito i vostri programmi potrebbero subire dei ritardi pesci è tempo di prendere in considerazione e possibilità che avete sempre scartato in passato le cose sono cambiate